8 ottobre 2021. Il potere di Cristo contro il demonio e il peccato. Dal Vangelo secondo Luca capitolo 11. In quel tempo dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio alcuni dissero è per mezzo di Belzebul capo dei demoni che gli scacci i demoni. Altri poi permetterò la prova e gli domandavano un segno dal cielo. Egli conoscendo le loro intenzioni disse ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora se anche Satana è diviso in se stesso come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scacci i demoni per mezzo di Belzebul ma se io scacci i demoni per mezzo di Belzebul? I vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scacci i demoni con il dito di Dio allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte e ben armato fa la guardia al suo palazzo so che possiede al sicuro ma se arriva uno più forte di lui e lo vince mi strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me contro di me e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impure esce dall'uomo si aggira per i luoghi deserti cercando sollievo e non trovandone dice ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto la trova spazzata e adorna. Allora va a prendere altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. La lotta contro il demonio è essenzialmente la lotta per la liberazione degli uomini dal dominio del maligno fin dalle origini. Quando la razza umana cadde nel peccato per la disobbedienza a Dio. Da quel momento il peccato è entrato nell'uomo ed è trasmesso con la generazione. Ogni uomo che nasce dunque è sotto l'influsso del maligno ed è spinto a peccare. La redenzione di Cristo libera l'uomo dalla colpa del peccato ma non dagli effetti. I quali rimangono come terreno di lotta personale con l'aiuto sacramentale di Cristo. I diritti del demonio su di noi sono tolti con l'acquisizione dei nostri debiti da parte di Gesù con la sua croce. Ora però nonostante la riconciliazione con Dio rimangono gli effetti catastrofici del peccato che segnano questo corpo di morte. Esse portatore delle spinte al male a noi ardenti e chiesta la lotta contro tali pulsioni di rimanere fedeli a Cristo. Tale lotta si configura come combattimento spirituale. Si tratta del cammino verso la montagna di Dio dopo l'uscita dall'Egitto, terra della schiavitù, per il deserto, tempo e luogo di purificazione. In questo tratto, che è il tempo della Chiesa, camminiamo con la nostra vita terrena. Non ci sono risparmiate tentazioni, prove e nemmeno lotte aspre col nemico infernale. Vi sono anche conseguenze ataviche che trasmettono o facilitano la nostra condizione spirituale, insieme ai nostri errori e peccati. L'intreccio dell'intera famiglia umana col peccato e la morte è ciò che permane in tutti noi. Nel caso di possessioni demoniache o malattie causate da spiriti impuri, le conseguenze della storia di peccato dell'umanità possono diventare ancora più evidenti. Pertanto la lotta contro il demonio assume moltissime forme nel combattimento spirituale. Tra questi vi sono anche i casi di possessione. Ma è importante ricordare che si tratta sempre del medesimo nemico che opera in vari modi sugli uomini. Gli esorcismi di Gesù sono evidenti vittoria sul demonio, che possono essere riconosciute perché visibili negli effetti, ovvero le sofferenze e le guarigioni in virtù del comando di Cristo. La disputa sul potere sopra i demoni che agiscono possedendo i corpi delle persone o causando loro malattie è essenziale perché solo Dio può vincere Satana, troppo potente per qualsiasi uomo. L'accusa maligna fatta a Gesù di essere falsamente vittorioso sui demoni mira a screditarlo, poiché l'esorcismo è la più chiara manifestazione della potenza di Dio in atto, potenza volta a liberare la persona dal potere del maligno che si affianca alla liberazione dal gioco del peccato con il perdono. Solo Dio può perdonare i peccati, solo Dio può liberare dal gioco di Satana. Sicché la soluzione dei peccati, gli esorcismi sono la manifestazione di Dio che salva l'uomo. Possessione e peccato hanno la stessa origine, il demonio. Essi sono correlati come anche le malattie, ma non sempre lo sono direttamente. Ma indirettamente siamo tutti portatori degli effetti del peccato e delle origini e siamo solidari nel peccato in Adamo. Anche gli innocenti possono subire dunque gli attacchi del demonio, perché ognuno porta i pesi degli altri, per la misteriosa solidarietà nella redenzione, poiché siamo tutti in Cristo, un solo corpo. La potenza di Gesù è potenza divina, poiché egli non tratta e non patteggia con il nemico. Ma comanda con imperio e il maligno deve lasciare la persona. Chi sta con Gesù sta con Dio, chi è contro di lui sta con il maligno. Ma Satana non può nulla contro Dio. Dio vi benedica. Grazie. 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 Grazie.